Marghera si è intrufolato in casa. Quando si è trovato di fronte l'anziana proprietaria non ha esitato a colpirla violentemente al volto. Poi si è fatto indicare dove fossero i soldi e i gioielli e infine ha chiuso la donna dentro una stanza legandola e impedendole così di uscire. È successo alle 11 e mezza di lunedì mattina in via Faggi. Il rapinatore è un uomo sui 25-30 anni di carnagione bianca. L'anziana è invece una signora di 82 anni. A dare l'allarme è stato un vicino di casa della donna che in qualche modo si è accorto di quello che stava accadendo e ha chiamato il 113. La testimonianza del cognato della donna è stata raccolta da Venezia Today. Dopo pochi minuti sul posto è giunta una volante della polizia che ora sta indagando per risalire all'autore della rapina. Non è la prima volta che succede un fatto simile a Marghera. Appena venerdì scorso un'altra anziana di 91 anni era stata rapinata all'interno della sua abitazione. In quel caso il malvivente dopo essersi introdotto in casa le aveva strappato dal collo una collanina d'oro ed era scappato lasciando la signora dolorante. Caorle è scomparso da Porto Santa Margherita Luciano Tassan, 77 anni, già sindaco di Aviano e fondatore del centro di riferimento oncologico. Si è allontanato attorno alle 11 e mezza e non ha più fatto ritorno a casa. Tassan potrebbe trovarsi nella zona tra Caorle, Porto Santa Margherita ed Eraclea. Sono state attivate tutte le ricerche sul territorio da parte delle forze dell'ordine. La preoccupazione è che possa essergli successo qualcosa di grave. Venezia. In mattinata le forze dell'ordine hanno colto in flagranza di reato due borseggiatrici di 29 e 19 anni, attive nella zona degli imbarcaderi davanti alla stazione Santa Lucia e già sotto stretto controllo da parte della polizia locale. Seguivano una tecnica ormai collaudata. Mentre la più anziana delle borseggiatrici utilizzava una mappa per coprire i propri movimenti ed eseguiva materialmente il furto, la più giovane faceva da palo. Le due sono state trovate in possesso del portafoglio di una turista brasiliana. Lo avevano nascosto dietro il palazzo Grandi Stazioni. Mestre, un punto di ritrovo fisso per spacciatori ladri pregiudicati, un ricettacolo di criminalità sul quale non era più possibile lasciar correre. Chiude nuovamente il bar Gyulan all'angolo tra via Carducci e via Circonvallazione. Lo ha stabilito un decreto del questore di Venezia Angelo Sanna ai sensi delle norme indicate nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per gravi e reiterati motivi di ordine pubblico. Il decreto vale per 60 giorni. A far scattare la decisione del questore sono stati ripetuti controlli al bar e ai suoi avventori.